Alla speranza. Rinata la speranza dalla sventura in questi mutilati di guerra della milanese casa del piccolo mutilato. Li riceve il presidente con Donna Ida e Inaudi nel giardino del Quirinale. Sorridente rose di piccoli cittadini intorno al primo cittadino. Anche De Gasperi saluta i piccoli amici. Dalla loro visita riporteranno il ricordo che l'Italia li ama e sarà sempre memore del loro sacrificio.